Promuovere e sostenere la prima infanzia ai minori e alle famiglie, contrastare la povertà e promuovere l'inclusione sociale sono tra le finalità del protocollo d'intesa sottoscritto a Treggiano, in provincia di Bari, tra CGL e CISL e UIL con l'ambito sociale e territoriale numero 5, che comprende i comuni di Treggiano, Adelfia, Capurso, Cellammare e Valenzano. Presenti, oltre al sindaco Antonio Donatelli, all'assessore Anna Maria Campobasso e ai rappresentanti sindacali, Giuseppe Boccuzzi, segretario generale della CISL Bari. Con questo protocollo oggi diamo avvio ad una nuova stagione di concertazione all'interno della programmazione del piano sociale di zona di un ambito sociale e territoriale importante come quello che ha come comune capofila Trigiano insieme ai comuni di Cellammare, Valenzano, Adelfia e Capurso, 83 mila abitanti che ovviamente necessitano di un sistema di welfare sostenibile. Qui nel 2017 verranno impiegati per promuovere servizi sociali di varia natura circa 3 milioni di euro e in questa programmazione adesso il sindacato diventa protagonista nella proposta e nella valutazione congiunta insieme all'amministrazione di quelli che potranno essere sia le linee strategiche ma soprattutto gli obiettivi da raggiungere. Al termine dei progetti la valutazione sarà espressa sull'efficacia delle azioni realizzate rispetto agli obiettivi previsti.